e bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale io sono amatovescam08 oggi vedremo un tutorial molto basilare questo tutorial di che parla parla di come visualizzare come velocizzare il proprio pc al massimo come velocizzarmi in che senso nei download esempio vuoi scaricare fortnite che è di 10 giga e vuoi velocizzarti il download senza aspettare 8 ore basta fare questo passaggio oltre a velocizzare download questo passaggio ragazzi cosa fa vi aumenta anche la connessione intanto per fare questo passaggio dobbiamo aprire promote dei comandi promote dei comandi eseguire promote dei comandi come amministratore e incollare questa frase qua match int tcp set global autotuning level dis uguale disabile questa frase insomma ragazzi la trovate anche in descrizione trovate questa frase voi ve la copiate e ve la incollate sul promote dei comandi e se vi dirà ok come potete vedere qua ok non credo che lo vedrete perché sto registrando con la barra di gioco che in ragazzi la barra di gioco è un po scherzina però il mio pc dispone solamente di questa perché non sto usando il mio pc vero ma sto usando un altro pc se vi viene la scritta ok vuol dire che il vostro pc è stato velocizzato facciamo un'altra prova per vedere se ben velocizzato ecco qua sì ok quindi il vostro pc è stato velocizzato ripetiamo il passaggio aprire promote dei comandi e eseguirlo come amministratore copiare il la scritta che trovate in descrizione di questo video dare like a questo video e andare su promote dei comandi e incollare la scritta se vi viene ok il vostro pc è stato velocizzato ragazzi grazie per la vostra attenzione questo era il tutorial di come velocizzare il proprio pc io vi saluto al prossimo video bella buong buong ciao